Numero 29, Pioffi, arrivatore Mio Di Cervo, arbitraro contro i signori Bustaro Paolo e Pimenti Francesco, buon match in a tutti. Negro, Calabrese, Draghici, raddoppiato subito Draghici, scarico per Calabrese che mette i primi due punti della partita, 2-0 per il Mercatò. Raddoppio della difesa del College, punito bene da Draghici che trova Calabrese in mezzo all'area, facile l'appoggio. Va Maino ad anticipare, Negro da terra, gli consegna il passaggio, con la mano sinistra Maino ad appoggiare, 4-0. Negro, Zanelli, ancora Zanelli, Maino ci prova subito da 3, segna, palla nelle mani degli ospiti, Gnecchi, Rupil, cercato Gnecchi in backdoor e segna. Gnecchi, attacca lui in faccia a Draghici e segna. Riapre subito per Castiglio che vede in angolo dall'altra parte Marco Negro, prende il tiro da 3, realizza. Giadini, proverà a prendersi lui, probabilmente il primo tiro, oppure Ferrari, Ferrari proprio. Prova ad attaccare Negro, 4 secondi alla fine, 2 secondi alla fine, lo scarico al cadestro, quasi sulla sirena del College, chiude a meno 2 così Borgo Manero. Dopo questo primo quarto che ha visto il Mercatò provare ad allungare un pochino subito nelle prime battute, è un college che ha risposto ed è rimasto in partita. Perde quasi la palla, riesce in qualche modo a ributtarla fuori da Negro, poi da Margheri, in mezzo alle gambe, 2, 3 volte, 7 secondi alla fine dell'azione. Margheri con la mano sinistra, 5 secondi alla fine dell'azione, Margheri fuori da Negro, finta il tiro, va da 2 punti a muovere la retina. Gran cadestro di Marco Negro. Grande pazienza del Mercatò che è riuscito finalmente a trovare una soluzione di tiro apertissimo. 21-19 dunque per il Mercatò, Margheri si butta su questa palla vagante, la conquista Castillo per appoggiare la palla al ferro e segna, esplode il palla 9-5-8. Buldo, Giadini, proverà a tirare in faccia Gallo, molto probabilmente. E infatti lo fa, e segna anche, 23-22. 7 minuti e 20 da giocare nella terza frazione, Maino, Gallo, ci prova da 3, segna! Va da Gallo, ribaltamento per Draghi, esce Zanelli, il tiro lui se lo prende, muove la retina Zanelli. Draghi, Maino, scarico per Draghi, ci prova da 3, segna! 49-34, massimo vantaggio della partita per il Mercatò che vola più 15, 2 minuti e 46 prima della fine della terza frazione. Altro passaggio difficile per Gaino, per Castillo, Draghi, ancora da 3, time out del College! Gioda, Maino, Castillo, Draghi, ci prova per la terza volta consecutiva da 3, segna! 55-34 più 21 per il Mercatò, 1 minuto e 30 da giocare! Draghi, c'è forse qualche difficoltà alla schiena, Castillo, 5 secondi da giocare, 4, 3, 2, 1, ci prova Maino da 3, segna! Esplode il palo, 9-58 sulla sirena, 58-36 per il Mercatò che va con un rassicurante più 22. 2-2!